Di nuovo, assieme, c'è una luce un po' strana, perché non abbiamo l'altro neo. Non abbiamo il neo, anche se sono le unici di mattina, diciamo che non avremo proprio bisogno del neo. Bene, siamo in partenza per... Prigione! Prigione, versione invernale, bene. Signori, siamo in partenza per un altro scherzo da Giordi. Siamo pronte? Potremmo farle anche uno scherzo telefonico. E' che ho paura che ti riconosca da tutti. Tipo, signora, devo... Mi serve un inferi per il funerale del mio cane? Mi fa una coloncina? Potremmo provare. O ti riconosci a Giordi? No, parlo tutto così, signora, signora. Eh, mio cane aveva 25 anni. Eh, ma quando andiamo fuori a fumare, e gliela facciamo. Fuori dove? E non possiamo fuori dove c'è il negozio. No, no, gliela facciamo, gliela fai. Cazzo, chi è che c'è il negozio? Dovremmo filmare una e l'altra in modo da vedere anche le facce. Facciamo arrivare adesso la Rianna. Sì, lo facciamo con la Rianna e la Marcia. Aspettiamo le nostre... Complici. Complici. Ciao. Ciao. Andiamo in un tosto.